Posto che è Natale c'è uno scambio di regali che regalano... Ci siamo ragazzi! Mi raccomando vi aspettiamo il 29 dicembre alle ore 20 e 30 in diretta con Play Christmas solo su Ernica TV e canali social. Ciao! Che ricordi rispetto i suoi ricordi musicali però pensi ai miei regali non mi dica di no